Eccomi qua, buongiorno bella gente, buongiorno a tutti voi, eccomi qua dopo un weekend lucchese con i fiocchi, nel senso che venuta giù tanta di quell'acqua che veniva giù veramente a fiocchi E siamo qua, e siamo qua con una giornata che mi affaccio alla finestra e ci sono 22 gradi e si sta in maglietta a maniche corte Mannaggia l'oro! Un weekend dove la cosa più asciutta che avevo era quella uscita oggi dalla lavatrice dopo i tre giorni lucchesi Mannaggia l'oro! Che due coglioni sto weekend di lucca sotto l'acqua! Ma, ma, ciancio alle bande, iniziamo un attimo a tirare fiato, iniziamo a riprenderci un attimo da questo weekend impegnativo E parliamo del capitolo 1097, perché vi avevo parlato degli spoiler, vi avevo parlato proprio nella serata di mercoledì sera, proprio degli spoiler E basta! Ho saltato ieri la fatal perché sono arrivato a casa tardi E quindi, eccomi qua! Parliamo del capitolo 1097 Quindi, leggiamoci la traduzione Perché ieri avete visto, avete letto, avete sentito l'adattamento del re Avete parlato, avete fatto due chiacchiere con il re Cenere Mind e i loro due ospiti Grazie a Red Merrick per gli undici mesi E, beh, ma, Merrick, sai bene Quando ci si dice, ci vediamo a Lucca! È impossibile che succeda È veramente impossibile che succeda Poi incontri gente che solitamente non vedresti neanche per sbaglio E invece, chi vuole vedere, non mi trova mai Ma, lasciamo perdere Lucca Di Lucca ne parleremo Giovedì sera Dove faremo una bella live Internos Dove faremo proprio quattro chiacchiere sulla Lucca di quest'anno Idee, pareri E... vi è piaciuta, non vi è piaciuta E... e compagnia cantante Quindi, non sto a... a parlare approfonditamente di questa Lucca Ne parleremo proprio giovedì sera Detto questo, cambiamo layout Eccoci qua Con il layout di Lost in Translation E... ci siamo E ci siamo Perfetto Allora, scendiamo un attimo qua Tac One Piece, capitolo 1097 Genie Piccolo, è piccolo, non si vede troppo bene Quindi tiriamo sul 20 Critico! Ciao Pandy Jackson Allora Come già vi dicevo Io l'ho tradotto, questo Genie Genie Che poteva essere tradotto tranquillamente come E... Genie con una N sola Genie con due N In teoria Genie con due N non sarebbe giustissimo Vedendo come è scritto Genie Però sappiamo che Bonny È scritta Bonny Quindi Bonny, state Bonny Quindi Ho traslitterato Genie Come se cambiasse solo la prima La prima sillaba Che qua è G E l'altra è Bo Quindi Genie È diventata Genie con EY Come Bonny Era Bonny con EY Scendiamo Come già vi dicevo L'unica cover Che si va a ricollegare Al capitolo E vediamo qua PN Takashi Quindi cover richiesta da Takashi Il soggetto è Basoro Myukuma Quindi Bartolo Myukuma E... Che cosa fa? Quindi tutta la frase relativa Tutto quello che è E... Ciò che specifica L'azione di Kuma È prima Perché in giapponese Tutta la costruzione Che noi abbiamo Come Nome A cui Nome Che fa qualcosa Che dice Che è Che Qua funziona in maniera diversa Qua si crea Tutta la frase E Si aggancia Con un verbo Si definisce in forma piana Quindi in forma da dizionario E viene messo esattamente Appena prima Della parola A cui si va a riferire Quindi è una relativa E che cosa dice questa relativa? Kawade Sake o Heru Heru Non Heru Questo Heru Vuol dire Procurarsi E Cacciare Però non è gari Quindi È proprio Prendere In questo caso Procacciarsi Procurarsi Si procura Sake Quindi Dei salmoni Che non è Sake Sake è il Sake è l'alcolico In generale E Qui è Uno è Sake L'altro è Sake E Kawade Quindi nel fiume Scendiamo Andiamo avanti Didascalia Goddobare Jikeyori Achenengo E Sanjinenmae Quindi Otto anni dopo l'incidente Di God Valley Trent'anni fa South Blue Sorbet Oko Quindi Regno di Sorbet South Blue Iniziamo con I vecchi Che iniziano a chiamare Il Santo Un attimo Che faccio una roba Qua Così vedete tutto E non vedete La Ladder Del sito Kumachi Tanomuyo Quindi Kumachi Ti prego Qua Sono due frasi Il Washa Watashi Watashi Tochan Nojidaikara Dai tempi Tochan Dai tempi In questo caso Intende Di tuo padre Probabilmente perché Anche all'epoca Era più grande Del padre Di Kuma Kaiottoru 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 È la contrazione di Kaiottoru Kaiottoru Vuol dire Visitare regolarmente Passare regolarmente Di qua Quindi dice Io Vengo Partecipo E Frequento Questo luogo Fin dai tempi Di tuo padre Fin quando C'era tuo padre Kiyoni Inakunatte Odoroitaga Improvvisamente Kiyoni Vuol dire Improvvisamente Inakunatte Inakunatte Si usa di solito Per due motivi Il primo È un modo Educato Per dire Che una persona È morta Inakunatte Non è altro che La Trasformazione In Diventare In divenire Del verbo Esserci Ma al negativo Perché Il verbo Essere In questo caso Esserci In negativo È Inai Ma I verbi Il verbo Narimas Che vuol dire Diventare Ha bisogno Prima Di una costruzione Avverbiale Cioè Gli aggettivi In I Vengono trasformati In Q Cioè La I viene tolta E viene messo Al suo posto Una Q E questa è proprio La costruzione Da aggettivo In I Ad avverbio In I Gli aggettivi In Na Invece Tolgono In Na E si trasformano Come Dei Come anche I semplici nomi Quindi Da Si toglie In Na E viene messo Il Ni I sostantivi Normalissimi Si aggiunge Un Ni Dopo Il Dopo Il sostantivo Quindi In Akunaru Vuol dire Letteralmente Diventare Non essere Quindi Non essere Non essere Più esistente Trasformarsi In qualcosa Che non esiste più Quindi Stringendo Vuol dire O viene utilizzato Per morire O Come in questo caso Viene utilizzato Per Sparire È sparito Improvvisamente E il fatto Che sia Sparito Improvvisamente Mi ha Odoroku Odoroita È proprio Stupirsi Ma Stupirsi Negativo Cioè È proprio Cadere dalle nuvole Non me lo aspettavo Cioè Il fatto Che lui Improvvisamente Sia sparito Beh Non me l'aspettavo Questa cosa Ciao Zianello Musco È cresciuto È Sì È cresciuto Diventando Un eccellente Pastore Bokushi Viene utilizzato Proprio come Pastore Protestante Il termine Per il sacerdote Cristiano Adesso ci devo Guardare Perché non mi sono Non mi sono Addentrato Più di tanto Sul prete Cristiano Però Il dizionario Viene In mio aiuto Quindi Il dizionario Mi dice Che il sacerdote Viene Shisai Shisai È il sacerdote Cristiano Mentre qua È Bokushi Bokushi È il sacerdote È il Il pastore Anglicano Protestante Quindi non Il sacerdote Cristiano Cattolico Do Koso Dè Ryoshimo O Yorokobi Gia Dovunque Si siano Anche I tuoi genitori Saranno Felici Sarebbero Felici Entrambi I tuoi genitori Saranno Felici Ovunque Si siano Konokuni È un regno Povero Quindi non c'entrano i bambini Bimbo Significa povero Okoku Regno Quindi è un regno Povero Toshiori Darake Quindi Toshiori Darake Vuol dire Darake Significa che C'è soltanto Qualche Qualcosa Ed è quel qualcosa A cui si va Ad agganciare E Vuol dire Che In questo luogo Ci sono solo I Toshiori Toshiori Sono gli anziani Quindi dice Questo è Un regno Povero Dove vivono Soltanto Anziani Quindi nella parte Sud Sta anticipando Quello che sapremo Più avanti Della parte Sud Arigatone Ora sto meglio Grazie Quindi Dice Ok Il prossimo Sono io Mi fanno male Le anche O anche Le anche No Scherzava È brutto Arigataya Arigataya Come succedeva Prima Che qua Diceva Arigatone Invece che Arigatò Perché Arigatò Sarebbe lungo Come pronuncia La La O finale Qua Nel primo Balloon Dice Arigataya Che In pratica È Una versione Storpiata Di Arigatai E Che vuol dire Ti ringrazio Voglio ringraziarti E quindi Glielo ripete Arigataya Arigataya Chi sei Chi notte Le mani Dei miracoli Chi sei Chi è Il miracolo Quindi Per dirlo in maniera Più italiana Le mani Miracolose Egiz Sono i giorni Infrasettimanali Laddove E Lui Praticamente Sta facendo tutto Solo esclusivamente La domenica E sapremo dopo Il perché Qua Gli stanno chiedendo Ma Fai solo la domenica Fai solo la domenica Non è che lo faresti anche durante la settimana Entra Gimmi Da me Io Nici Io Da che Nici Io È la contrazione di Nici O B Che è domenica Han tolto B Che è il kanji di giorno Quindi Che è esattamente Lo stesso kanji Utilizzato Ah Non riesco a fare La La cerchiatura Comunque È lo stesso kanji Che vedete qua Con il mio puntatore Del Del computer Che è il primo kanji Dell'ultimo balun Nici È il kanji di giorno Qua E Praticamente I giorni della settimana In giapponese Funzionano esattamente Come in inglese Perché In italiano Si è perso Il sabato E la domenica Perché Il sabato È un termine Che deriva Dall'ebraico Shabbat Mentre La domenica Deriva Da dominus Quindi Dal latino Quindi Uno è Il giorno Domenica Quindi Il giorno Del signore Perché Dominus È In latino Signore Quindi Le Queste Questi due termini Sabato e domenica Sono stati mutuati Da questi due linguaggi Ebraico E latino Mentre Il giapponese Fa esattamente come L'inglese Lunedì Che in inglese È monday E in italiano È lunedì E In giapponese È getsu Yobi Dove getsu È il kanji di Luna Martedì E in giapponese È Kaiobi Dove Ka È il kanji Di fuoco Ed è anche Il kanji Di Kase Che è Marte Mercoledì In alcuni casi Però è diverso E L'inglese È diverso Mercoledì Mercurio È Sui Yobi Quindi il kanji Di Sui Se Che è il kanji Di mercurio Andando avanti La domenica In giapponese È Nichiyobi Il giorno del sole Solo che in italiano È domenica In inglese È sunday Questo per farvi Un aggancio Con l'inglese Scendiamo Cambiamo pagina E andiamo a vedere La risposta Che dà Jinni A sti vecchiacci infami Kanemora Onekuse Ni Zuzushina Rojindomo Kanemo Arawanai Arawanè Quindi Non pagate Nemmeno Un soldo Kuseni Zuzushina Quindi Non siate Così sfacciati Non Siate Sì Non siate Così esagerati Così sfacciati Visto che Non pagate Niente Vecchi Rojin Vuol dire Anziano Rojin Domo È Vecchi Anziani Cioè li sta cazziando Dandogli proprio dei vecchi Waa Kecino Kecino Jinni Ga Dete Kira Dete Kita A Waa Quindi stanno urlando Kecino Jinni Ga Dete Kita Dete Kita Vuol dire È arrivata È uscita Però Arrivata È più bello In italiano Gini E com'è la specificazione Di Gini Kecino Jinni Kecino Jinni Vuol dire Jinni La vara La spilorcia Quindi è arrivata Esattamente Come Nami E adesso arriverà Qualcuno Che dice Jinni Vera Madre di Nami Adesso ci manca solo Che questa schiatti Esattamente E nella stessa guerra Dove Nasce Nami E poi siamo a posto Così Quindi dice Usse Usse È la versione Quasi Cioè Brutale Volgare Per dire Urusai Fate casino Quindi silenzio Anche se silenzio È più Damare Che vuol dire Proprio silenzio In maniera brutale È cattiva Usse È Una maniera Sì Molto volgare Di dire State facendo Troppo casino Kokoa Quindi qui Questo luogo Kjampjo demò Byoin demonai Demoneso Quindi Questo luogo Non è Kjampo demò Quindi Né Un picnic Né un campeggio Kjampjo È più Un luogo Da Luogo Dove Accamparsi In questo caso Luogo Da picnic Byoin Demo Quindi non è nemmeno Un ospedale Cioè Cioè Siete qua State facendo casino Chiedete Dele Chiedete Di poter fare le cose Senza pagare Cioè State lì Accampati Perché questi Sono lì Che magnano Bevono E gozzovigliano Cioè Non è un ospedale Dove venire a chiedere Le cure Non è Una Un luogo Dove Stare lì a magnà È una chiesa Qua Waruguchi Waruguchi E anzi Kuchihwarui Scusate Non Waruguchi Kuchihwarui E in pratica Gli stanno dicendo Ma sei davvero Sboccata Sei davvero Una che Parla In maniera Maleducata Perché Perché nel ballon Precedente Li guarda E gli dice Ed è una maniera Volgare E poi Ancora prima Gli dice Li chiama Rogindomo Rogindomo Li sta praticamente Stanno dei vecchiacci Maledetti Cioè Vecchi maledetti Cioè siete qua Non pagate niente E siete anche sfacciati Non siamo in un campeggio Ma Dove vi credete E la risposta Dei vecchi È Nonostante Perché quel Nonì È Una versativa E quindi È Nonostante Tu sia così Sboccata E parli così male È un peccato Perché sei davvero Una bella ragazza Beppin Che non è Un Diminutivo Di Peppino Ma Beppin È Il Un altro modo Di dire Bigin Però un modo Più arcaico Di dire Bigin Bigin Vuol dire Bella ragazza Quindi dice Peccato Perché sei davvero Una bella ragazza Nonostante Tu parli male Nonostante Tu sia male Parli in maniera Maleducata Sboccata Machino Tokotachi No Kokuhaku Ga Tomaranain Date Io Quindi dice Tomaranain Date Quindi significa Si dice Che Kokuhaku Gatto Tomaranain Che le dichiarazioni D'amore Da parte Dei vecchi Dei maschi Del villaggio Non Non si fermino Non smettano Quindi si dice Che continuino Ad arrivare E non smettano D'arrivare Dichiarazioni D'amore Da parte Dei giovani Del paese Io dico Gli anziani Ma Sono i giovani Intanto Scendiamo Anashio Surika Enna Non cambiate Discorso Gini E Niju Isai Grazie Garp Grazie Vecchio Cuore Allora E poi I vecchi Che ovviamente Rispondono Ma Kumachika Orukarano Quindi Ah ma tanto C'è C'è Kumachi Come direte Ve la intendete Voi due Kumachi Nokao Miruto Otto Suru Quindi Anche solo Cioè Solo a vedere La faccia Di Il volto Di Kumachi Mi sento Sollevata Qua Ho To È scritto Ho In katakana Con il piccolo Zu in katakana E To È scritto In iragana Qua È un modo Per dire Che la parola È Ho Ma è un modo Proprio Gergale Cioè Questo sta parlando Proprio In maniera Proprio È un modo Parlato Non scritto Per dire Beh Nel momento In cui vedo Il volto Di Kumachi Mi sento Sollevata Sono già Sollevata E Kuma Che risponde Ureshio Sono felice Ne sono felice Antagamaya Kasukarada Yo Kumachi Quindi Questo Eh sì Abbastanza David Griffon Abbastanza Il fatto che Usino Usano Tre alfabeti Usano Tre alfabeti Diversi E uno Che è quello Cinese Che è il Kanji Ma è un Alfabeto Più Complicato Del cinese Perché il cinese Odierno È un Un alfabeto Più semplificato Rispetto a quello Che era una volta E E poi usano Hiragana E katakana Qua dice Si comportano Così Tutta la parte Dopo è tagliata Cioè Tutta la parte Dove Dice Questi fanno Così O mettiamo Quindi È perché Tu sei troppo Gentile Sei troppo Indulgente Che questi Fanno Così E la risposta Della vecchia È E la frase Quindi Questo qua Questa situazione Proprio perché c'è Kuma Proprio perché c'è Kumachi Icura Icura demò Genkin Stai Offrirei Tutto il denaro Possibile Tutto il denaro Che volete Che do sa Quel sa è Per darsi un tono Più che un vero e proprio Un motivo Quindi È proprio perché c'è Kuma Vorrei darvi degli altri soldi Vorrei io fare Ulteriori offerte Però Imamade demò Genjokin No seede Ikitekyu Takede Sei Pai Datanoni Finora Fino a questo Momento Per colpa Del loro celeste Quindi Tenjokin No seede Quindi per colpa Perché Seede Viene utilizzato Per dire Che è per colpa Di qualcosa Per dire che invece È grazie a qualcosa Ciao Baggy Grazie per i dieci mesi Vecchio cuore E Sì a me piacerebbe un sacco Lo trovo sensato E Seede Significa Per colpa Di Altrimenti Al posto di Seede Sarebbe stato messo No Okage De Ed è qua di fianco A Tenjokin Dove c'è Il Tenjokin Scritto tra parentesi Cioè Il tesoro L'oro sopra il cielo L'oro dei draghi celesti L'oro Celeste Fino adesso Per colpa Dell'oro celeste Iki te ku Dakede Quindi Sono riuscito Riuscita A malapena A sopravvivere Con tutto quello che faccio Sei Pai datanoni Nonostante Io faccia Tantissimo Io lavori tantissimo Quindi dice Nonostante io mi faccio un culo così Purtroppo riesco a malapena A sopravvivere Per colpa Del Dell'oro celeste Koku 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 Kauate Chimattaro Qua Dice Ma Lo sai Che purtroppo Perché Kaki Kauat Chimatta Vuol dire Kauate Chimatta Kauate Chimatta Vuol dire Finire di fare qualcosa Ma finire di cambiare Per un sovrano Sta veramente da cani Altrimenti Quel Te Koku Koku Viene utilizzato Per far capire Che chi parla E Dispiaciuto Per questa cosa E quindi dice Lo sai che purtroppo È cambiato il sovrano Non c'è più lo stesso re Quindi, il nuovo re Becori, ha una reputazione che si dice, quindi ha la reputazione di non avere E ne sangue, quindi cimo, ne e lacrime, namidamo, che sono questi due qua Mi devo abituare a trovare un modo per poter segnare le cose E quindi dice, anche se siamo malati Dobbiamo, perché in pratica dice Araene, in questo caso è quasi un Arawanakereba Araenakereba Ciao Pier, eh lo so, sono arrivato a casa tardi Lo so, sono arrivato veramente a casa tardi e non sono riuscito E peccato, ti rinnovo di nuovo, peccato non essere riusciti a vederci questo weekend E quindi, ancora, ancora rinnovo Rinnovo io a te, grazie mille Pier E quindi, anche se, anche se siamo malati, anche se ci ammalassimo Anche se, sì, se ci ammaliamo Dobbiamo per forza pagare l'oro celeste E inoltre, la prigione, si parla della prigione Hide, mondo Hide è idoi Hidoi significa terribile, terrificante Però, i hidoi, viene utilizzato come immagine, come parola negativa Un po' per tutto Sta bene come il nero, sta bene su tutto Hide monoda, mondà Quindi, hide monoda Quindi, ah, è una cosa terribile, è veramente terrificante Konoma è Si dice che di recente, che in precedenza Un vecchio è stato messo in prigione, in carcere E lasciato morire di fame Quindi, roiani, irerareta Vuol dire, essere messo da qualcuno Quindi, e, in teoria, questa frase è già passiva Perché, e, ireru, vuol dire mettere dentro qualcosa Quindi, a mettere dentro qualcosa, in questo caso è mettere dentro qualcuno Dentro alle prigioni Roiani Irer, ireru Quindi, vuol dire mettere qualcuno in prigione Quindi, che senso ha Modificare quel ireru Con irerareru Che è un passivo E, ciao draugnim E, tutto bene a Lucca Diciamo che ho preso tanta di quell'acqua che ne ho presa in castigo E oggi ci sono 22 gradi fuori Mannaggia i frati Allora Siamo a due minuti da far partire l'hype train, ragazzi Vamos, vamos, vamos Facciamolo partire l'hype train Siamo arrivati a tanto così poco fa Riusciamoci a sto giro, dai Perché è stato modificato e messo al passivo Quindi È stato fatto mettere dentro No E, semplicemente No, 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 no Sei stato tu quello che stava per far partire Quindi manca un minuto e trenta per Riuscire a farlo partire C'è bisogno di qualcuno che riesca a sbloccarlo E, perché al passivo Può anche voler indicare Proprio come nella situazione prima E, il te shimai mashta Shimai mashta Che prima era te shimatta Significa anche qua Il dispiacere Qualcosa di negativo E quindi dice Purtroppo E, in precedenza, recentemente Un anziano Che è stato messo in galera Che purtroppo è stato messo in galera Kaji shtate Kaji Kashi Kashi shtate Kashi Significa Essere morto Di media Morire di fame Quindi dice Si dice Che Questo vecchio Che è stato messo in carcere Che recentemente è stato messo in carcere E, è morto di media È morto di fame Kashi Dio Morto di fame Shujini Meshimoku Wasene Quindi Shujini Shujini Vuol dire Ai prigionieri Meshimoku Wasenai Non fanno mangiare Nemmeno un pasto Non lasciano mangiare nemmeno un pasto Quindi è Non Non danno nemmeno un pasto Non ando nemmeno da mangiare Ai prigionieri Do Kechi Koku Koku Koda Do Kechi Prima Avevamo Kechi Nogini Quindi anche qua è Che sovrano Spilorcio Do Kechi È la stessa cosa di Kechi È solo Letto È costruito in maniera diversa Ma il significato è lo stesso Che sovrano misero Che pezzente Che pulcioso Sì Rebekori sta ascoltando Sì 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 Tenryubito ni Heko 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 shiteru yatsu Mitai de Kienaku sayo Qua Tenryubito ni Beko heko heko shiteru È È servile È un uomo È servile Con i draghi celesti Heko heko È il senso È il Per i giapponesi È il suono di Tipo Inginocchiarsi davanti a qualcuno E Chinare il capo davanti a qualcuno Tant'è vero Ciao black dog Tant'è vero che Si chiama Rebekori Laddove Heko heko Dai che l'hai trenza vicina Dai Grazie Mirko Grazie Hai ravvivato Live train Dai ragazzi Un minuto Per far partire Live train Dai 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 E Yatsu mitai de Quindi Sembra Che Si dimostri servile Nei confronti Dei draghi celesti Kienaku sayo È un uomo Sospettoso Kienaku sayo Kusai Significa Puzzare Quindi Puzza di mistero Puzza di Sospetto È una persona Sospettosa Che si dimostra Servile Nei confronti Dei draghi celesti Kienko De Inakia Kurosare Ruu Kienko Kienko È Essere in salute Quindi Kienko De Inakere Dice Se non sei in salute Kurosare Ruu Ti fa ammazzare Cioè se sei malato Ti fa ammazzare Se si tratta di Cioè Dice Riesco a togliervi Posso togliervi Posso prendere E I Grazie Mirko Posso prendere E Le malattie Leggere E Quegli A Funziona come Il To Qua è nel balun Dove Dove Kuma parla Questo Ia Dove c'è la freccina Si usa come Il to Quindi Significa E Quindi Posso togliere Posso prendervi Sia Le malattie lievi Che i dolori Maishioide Tutte le settimane Lo posso fare Tutte le settimane E i vecchi I vecchi vanno via Arigatone Kumachi Arrivederci Grazie mille Kumachi Ciao Ciao Core Buonanotte Scendiamo La pagina Quindi si sente proprio Che lui Sta proprio Battendo i denti Caccia delle urla Urla male Qua Connakoto Maishio Maishio Questa cosa qua Una cosa del genere Eh ma si vede Che ti arrivi in ritardo E oramai Cioè bisogna farlo Tipo Uno vicino all'altro Ma grazie mille Mirko Vai tranquillo E ripete Maishio Maishio Significa Tutte le settimane E quindi dice Tutte le settimane Ma ogni settimana Non ne salta una Sempre così Minna Kumachi no Kumachi no Kuroshimi mo Shiranai desa Cioè Loro non sanno Non Non conoscono Assolutamente Nemmeno il Dolore Kuroshimi Kuroshimi È la trasformazione Da Da aggettivo In 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 Nome In sostantivo Kuroshimi Si intende Il dolore Cioè Tutti Che quindi è Cioè tutti quanti Non conoscono E quindi è Nessuno Conosce Il dolore Che provi Kumachi Skatanaio Ah va bene così Non c'è problema Kuroshimi La massa Di dolore E di Sofferenza Perché Itami È Il dolore Fisico Kuroshimi È quasi Un dolore Emotivo E quindi Lui sta dicendo Non c'è un problema Non è un problema Va bene così La massa Di Dolore E dolore Quindi la massa Di dolore E sofferenza Dolore fisico E sofferenza Emotiva Dare Kaga Ikkyukerumade Kienainda Quindi Finché Qualcuno Quindi Dare Kaga Ikkyukerumade Finché Qualcuno Non se ne prende Carico Non sparirà Mai Non sparirà Se lo ignorassi Tornerebbero Tutti Al loro Legittimo Proprietario Cioè Tornerebbero Tutto Alla persona D'origine Nani Yori Ureshindayo Sono Oltremodo Felice Minna Gai Orekondekureru E Se riesco A dare A tutti Felicità Se tutti Sono felici Gomenna Gomenna Shinpaikakete Motto Kitaetsu Yokunaru Kara Scusa se ti faccio Preoccupare Gomenna Shinpaikakete Quindi scusa se ti faccio Proprietario Eh proprietario Se ti faccio Preoccupare E Motto Kitaetsu Yokunaru Devo 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 Temprarmi Ancora di più Per diventare Più forte E Più mi Tempro E più divento Forte So Yumondai Janneio Ma non è questo Il problema Kuma Skoshi Shokurio Moratta Yone Tameo Ah Ci hanno portato Un po' di cibo Ci hanno portato Un pochino di cibo Mangiamo Ah Cibo Lei Sente il cibo Non capisce più niente E passano 25 Andiamo a 25 anni Quindi 8 anni dopo Nijugonelmae Quindi 25 anni dopo Kuma Nijunisai 22 anni Kekonshi Oyo Kumachi Sposiamoci Kumachi Kekonsuruko Konshimasu Vuol dire sposiamo Sposarsi Eeeh Shinaio Eeeh No no Non ci penso nemmeno Quel shinaio E' molto volgare E' molto potente Eeeh E quindi Bisognava tradurlo In una maniera Strong Dai sposiamoci Dai sposiamoci Non ci penso nemmeno Ma non voglio palle Ma neanche per sogno Questo è il senso No 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 Anzi No 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 Ok Ok Nande daio Sureso Teme Uchi no koto da iskidaro Quindi Perché fai così Cos'è sta cosa Eeeh Omae Teme Quindi Cioè Fallo Maledetto Uchi no koto da iskidaro Ma io ti piaccio Cioè Bravo pierre Non dovrei piacerti così tanto E la risposta E poi si scende Shiaoase nish teiaru kara Io ti renderei felice Avete già sentito Tre termini diversi Che richiamano la felicità Shiaoase Shiaoase Indica una Felicità in senso generale Poi c'era Ku Wa Ur Infatti se guardate E li sto indicando Uno è questo kanji qua E l'altro è questo kanji qua Sono Praticamente Uguali No Sono praticamente uguali Quello di Yorokob E quello di Ureshi Sono uguali Tranne per una cosa La radice che c'è di fianco Al kanji di Yorokob Che è Onna Quindi Donna In pratica Ureshi In questo caso è Essere felice Essere contento Yorokob E' tipo Cioè Ureshi è quasi Essere allegro Rallegrarsi Yorokob E' essere felice E poi abbiamo Shioase Ni Shite Yeru E Penso che Saresti felice Penso che Saresti felice Scusate Correggiamo No Dice Io Io ti renderei felice Ora E' Shirase Ni Naruto Moukedo Io Penso che Sarei felice Però 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 ce lo devo mettere Però Così Sono io Il discendente Della stirpa Dei baccanier Qua ho fatto Copia e incolla Dalla battuta Di due capitoli fa Mia moglie Non lo è Mia moglie E' diversa Chiudete un occhio Per mio figlio Io Non voglio Renderti Infelice Mi Mi Te Mata Ji Yug No Kishida Io E Guardate E Un altro articolo Su Sull'eroica armata Di liberazione Perché i tre kanji Indicano la libertà L'eroismo E La L'armata Quindi io L'ho fuso come L'eroica armata Di liberazione Perché c'è quel Ji E Kaku kude Demo I Kiyo koshte E Causano Manifestazioni In tutto il mondo Quindi non hanno ancora Imbracciato le armi Semplicemente Questi Fomentano E Sobillano Gli altri Bello Sobillano Sobillano Manifestazioni In tutti In tutte le nazioni In ogni nazione Toto Shimete Hidate Ah Finalmente Sono sulla lista Dei Finalmente È sulla lista Dei ricercati Finalmente Ecco la lista Dei ricercati Dragon Dragonetta Virgolette Quindi potrebbe Potrebbe anche Non essere il suo nome Corretto Potrebbe anche Avere un nome Questo come Aokiju Akainu Che è stato poi La sua presentazione Potrebbe anche essere Un soprannome Dragon Kakkoinako Kakkoina Konohito Kitto Darekano Hiroda Che figo Kakkoidana Che figo E Quest'uomo E È sicuramente Un eroe Per qualcuno Kitto Darekano Hiroda Quindi Sicuramente È un eroe Per qualcuno Anche io Un giorno Vorrei uscire In mare Vorrei andare In mare Darekano Taskeru Tami Per aiutare Qualcuno E Con Inocio Skytai Voglio utilizzare La mia vita Voglio utilizzare Questa vita Può anche darsi Però Di solito Sì Può anche darsi Perché Shiyug Jiyugun È stato utilizzato Con lo stesso Con lo stesso Sistema Quindi le due virgolette Perché Dico questo dubbio Ho questo dubbio Perché Se io vado su E vado su Qua Kurushimito Itamino Matas Katamari È una citazione Ed è con queste virgolette qua Queste parentesi qua In precedenza In precedenza C'era La presentazione Di Becori Okuk Becori Oh Cioè di Rebecori Quindi che qua dice Rebecori Quindi anche un altro modo Di citare una persona Non è chiarissimo Devo essere sincero Sta cosa non è chiarissima E scendiamo Ok E' stato una buona pesca Tairio 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 intende una grande pesca E visto che è stata una grande pesca Prendi un po' di pesce Oh Arigato Gio gio E qua è Ho distolto l'attenzione E faccio finta E faccio finta Ad andare via Cioè Ah Dammi neanche un po' Anche a me Mmm Buono Buono Che buona pescata E gli arriva Una secchiata Di Prendi un po' di pesce Gli è arrivato Un secchio In testa Ah Grazie mille Bonk Prendi un po' di pesce Bacca Idiota Scendiamo Pagina 8 Qua Nijinemae Daijikenga okita Ventidue anni fa Avvenne un grande incidente Sarataitotachi O Kaese Aridachi Restituisci Il Le persone rapite Sarau Sarau vuol dire Rapire Sarataitotachi Sono le persone rapite Kumachi Taschete Aiutami Kumachi Salvami Kumachi Kokogunni Sakaraonoka Nanda kono Dekabun Dekabutsu Dekabutsu Vuol dire Buddha gigante E dice Osi ribellarti All'esercito reale Beh Cosa vuole questo Dekabushi Deka è La contrazione di Dekai Quindi gigantesco Bushi Butsu E Buddha Cosa vuole questo Buddha gigante Nambu no Kyokai no Bokushi Desu E' il Pastore Della chiesa Delle Dell'area sud Dell'area meridionale Dell'area meridionale Qua Dore Deredemo Tsukryukai Tsukryukika Hai intenzione di Costruire addirittura Degli schiavi Di creare addirittura Degli schiavi Zeta Yurisanei Non ti Non ti Non te lo permetterò Per sempre Non te lo permetterò Assolutamente Non te lo consentirò Gli va contro Zeta Yurisanei No Dove Sì Non Non te lo posso Non te lo permetterò Assolutamente Wow Angekuda Ah E' una ribellione Ah Avevo Dimenticato questo Nambu no Ningenwa Jiyunitsukate Yokunatta Dov'è Dov'è Qua Nampu Nambu no Ningenwa Quindi Gli abitanti Le persone Dell'area Dell'area sud Jiyuninatte Quindi Diventare liberi Yokunatta Io sono riuscito A No dov'è L'ho perso Hai sentito La legge Cambiata Possiamo usare Liberamente I Possiamo usare Liberamente Le persone Della Del Quartelare Meridionale Dore 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 Demos Zukaru Tsukuruka Tsukurukika Hai intenzione Di renderli schiavi Ah Angekuda Ah Una ribellione Quindi Ci siamo Kokusama Konosesaku Sire Questa politica Okoku no Ningentachi Ni mo Ukigawa Ruku Okoku no Ningentachi Ni mo Quindi Persino Gli abitanti Del Del paese Del regno Ukigawa Ruku E Fanno fatica A ritirare Fanno fatica A Arrivare Alla Fine del mese Riceverla Quindi Comprenderla Fanno fatica A comprendere Questa cosa Dal Dal governo Non preoccuparti La prossima volta Che una persona Inizia a comprendere Lo status No È la frase prima Scusate No Va bene Inizia a comprendere Lo status Nambro Mikdas Ioninal E Questa persona Inizierà A Disprezzare Quelli Dell'area Meridionale Pierre Scendiamo Altro goccino D'acqua Perché mi è venuto Un po' Di abbiocchino Shimano Okoku ga Shimano Okoku Dake ga Kyoyori Sorbe Okoku Dearu La parte Nord Solo la parte Nord Dell'isola Da oggi Fa parte È il regno Di Sorbe No Qua sotto Soltanto Ah no Qua La somma Che deve essere data Deve essere Versata Il governo Mondiale La somma Di oro Celeste Gakua Quindi la somma Kokumi No Su Ni Yo Te Kimaru La somma Dell'oro Celeste Verrà decisa Dal Dal numero Dei cittadini Dal numero Degli abitanti Di quella zona Tanti anziani Che abitavano in quella zona Quindi di conseguenza Tanti anziani Perché ci sono tanti anziani Tenjokin No Haraiga Sukunai Quindi Nel quartiere sud Ci sono quelli Che non Non possono pagare Il L'oro celeste Che verserebbero poco L'oro celeste Ashide Matoi Sono una palla al piede Sì 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 Assolutamente Assolutamente Beccori E Bossori E Kiristere va Konokuni wa Kitto Yutaka Yutaka Ni Narudaro Sorbe Sud ladrona E infatti Essendo al sud C'è anche la chiesa Se li abbandoniamo Se li mettiamo da parte Kiristeru E se li gettiamo via Konokuni wa Kitto Yutaka Ni Narudaro Quindi Se li abbandoniamo Questo paese Diventerà sicuramente ricco Rougoku Prigione Nande Omae Tachimade Tsukamatteru Perché hanno Hanno arrestato Fino a voi Perché hanno arrestato Persino voi Kumachi Okaesette A Varetara Ci siamo scatenati Per farci restituire Kumachi Nisareta Ah no è Bokoboko Nisareta Ci si Siamo stati Pestati male Siamo stati Pestati brutalmente Ci hanno Picchiato Proprio Ce li hanno date Di santa ragione Gini Forse questo paese Gini Forse questo paese Diventerà un luogo Di grandi discriminazioni Di grandi divisioni sociali Bekori Owa Tenryubitono Tesakida Re Bekori È uno strumento In mano Ai draghi celesti Questa politica Konoseesaku Konoseesaku Uekara no I re I re jieda Quindi Questa Questa politica È stata suggerita Dall'alto Konokonini Anko Sorunara Sekai Se effetto Tattaccao Gakugo Gakairu Se pensiamo Di attaccare Questo paese Se pensiamo Di Ribellarci In questo paese Dobbiamo Tenerci Dobbiamo essere Preparati A un A un combattimento Scendiamo 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 Ok Wow Nani monoda Omae Chi siete Voi Koku Onigekodazai Sire Scappila Prego Nigasuka Tenryubito Sarumaneshi Pensi che ti faremo Fuggire Pensi che ti Lasceremo Scappare Bieco Schifoso Servitore Dei draghi Celesti Sarumaneshi Sarumaneshi Vuol dire Persona Che Imita Delle scimmie Che va ad imitare Le scimmie Quindi gli sta dicendo Sei solo una scimmietta Nelle mani Di qualcun altro Koku Oga Oretà Dore Se Saku A A Kis Aretà Il Regno Sì Il regno è caduto Koku Oga Oretà Il regno è caduto Dore Se Saku La politica Di schiavismo Haki Sareta È stata annullata Yokata Minna Kuni Yada Capitolo Razzista Da parte Degli altri Personaggi Eh però Sembra Una Sembra Una Scemenza Ma I giapponesi Questo Essere La La Razza Superiore Ce l'hanno Da parecchio Tempo Sentendosi A livello Di leggende Discendenti Diretti Degli dèi Quindi È molto Particolare Nel didascaria Dice Grazie all'intervento Di alcune persone Non si sa ancora quante Il regno di Sorbet Ha evitato Per un pelo Il malgoverno E andiamo E andiamo Qua No Sì Vi siete fatti No Dov'è 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 Ho perso L'ho perso Allora L'ho perso Un attimo Che recupero E No Questo è dopo Qua Sembra Che si sia Scatenato In maniera Vistosa A deni Vuol dire In maniera Vistosa Omae no Sotoko E L'uomo Che mi hai Raccomandato Hitomede Kini Iru Azi Yo Dragon Dragon Te ne accorgerai Al primo Sguardo Kuma Jini Kuma Jini Vi siete Fatti Arrestare Sono venuto A liberarvi A salvarvi E Aniki Iwa San Yoko Nirunua Oi Kuma Mada Anotokino Omae San Nara Isshoni Sekai Kani 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 Ikso Quindi Torniamo alle frasi Che dicevano I vari personaggi E Fratellone Iwa Chan Yoko Nirunua E quello Lì di fianco A te Oi Kuma Mada Anotokino Omae Nara E Oi Kuma Se sei ancora Quello Di una volta Quindi se non sei Cambiato Kukukukukua Iiha Qua Qua No devo leggere Il dascaria qua Oara Kaimetsu no Higeki Ouke Busou Ketsui L'odio Ah no L'ho perso un pezzo Scusate 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 Ho perso due Due tre cose Sekai Kakkode Seifuheno Ikari Demoni Kaete Kita L'odio Che Diversi Paesi Del mondo Provavano Verso il governo Mondiale Cambiarono Vennero Trasformati Diventarono Protesta Jiyugun Wa Kaizoku Jidaino Toraini Toraito Quindi L'eroica Armata Di liberazione Insieme Alla venuta Dell'era Della pirateria E Oara Kaimetsu no Higeki Ouke E E E alla tragedia Della distruzione Di Oara Qua Busou Ketsui Presero le armi Si gettarono Il fucile Dietro le spalle DORAGON IVANKOV KONO NIHON BASHIRA NI KUMA O KUAE Aggiungiamo KUMA Alle due colonne Portanti DRAGON E IVANKOV KUAI NOCHI NI SEKAI NI SONO NAO NO ODOROKU Cambiarono il nome E Divennero Cioè da quel momento E cambiarono il nome Diventando L'armata rivoluzionaria KAKUMEGUN HETO KAIBO TOKETA DOKETA NO TOKETA Quindi Cambiarono il nome Diventando Armata rivoluzionaria E da quel momento Il loro nome RIEKEGGIÒ In giro per il mondo Scendiamo MADA ORETACHI NIWA SHIKIN GATA RINNAI OO TROPPAROBA TROPPAROBA Cambiamo pagina I nostri fondi Non sono mai abbastanza MADA ORETACHI NIWA SHIKIN GATA RINNAI Quindi Non bastano i fondi Che abbiamo da parte OO TAUSOTO SURU HANRAN NO ICHI YOWHE NO YONI TE WOKASU Andiamo KUWA Insegneremo No Sì Daremo una mano alla rivolta Come Come mercenari Che intendono Abbattere il loro re sfortunatamente purtroppo ah no scusate insegneremo insegneremo le nuove reclute come si maneggia un'arma e come si combatte sono le nuove reclute sono le persone che sono appena entrate quindi daremo vita a un'armata no insegneremo le nuove reclute come si combatte e come si maneggiano le armi voglio dar vita a un'armata gigantesca sparsa in tutto il mondo visto che le reclute sono da maneggiare con cura insegneremo comunque come utilizzare armi e come tenerci dietro voglio creare un'armata voglio creare un esercito in grado di spargersi in tutto il mondo così gigante da spandersi in tutto il mondo qua perché devo insegnare come utilizzare le armi sono stato per poco nella marina scusate se ogni tanto ho dei blocchi è che ogni tanto vado un attimo sono un po' stanchino ogni tanto mi inchiodo sono stato per poco nella marina un uanku soko de segyo segyo mi da ne kattaga il rientro è sempre traumatico no ma anche il rientro iniziando a lavorare alle 4 e mezza del mattino è sempre traumatico sfortunatamente volevo trovare là dentro la giustizia ma non ci sono riuscito ma purtroppo e Ivankov risponde kaigun kakume gun quindi armata del mare armata rivoluzionaria però perché gun indica proprio la l'armata qua è più fattibile dire marina marins armata rivoluzionaria tagheni i totasche o stai da che nanoni ne eppure hanno entrambi la la volontà di aiutare le persone hanno entrambi la volontà di aiutare le persone io ti seguirò vengo con te dragon kokai wa sasenai e non farmene pentire kokai vuol dire pentirsi di qualcosa sasenai vuol dire non far fare a qualcuno quindi non farmi pentire quindi non farmi pentire sarani andate passato qua sarani acine no tsukihi ganagare e di oscaria poi passarono altri otto anni ora kaete kitanokai kumachi cosa è tornato indietro è tornato kumachi tokidoki kaeruyo minnagashinpaida e ogni tanto torno ogni tanto ritornerò minnagashinpaida e qua è più e siete tutti preoccupati in realtà no siete tutti preoccupati non è vero stanno aspettando perché hanno bisogno del santo che li curi uricine ah siamo contenti cioè questi non sono contenti perché è tornato lo stronzo sono tornati sono contenti perché lo stronzo che li cura è tornato maledetti maledetti arriviamo all'ultima pagina 14 anni fa toaru okoku 14 anni fa in un regno sconosciuto in un regno toaru okoku è in un regno a caso casuale jini san jini san jini san sembri felice are kawonireta è si vede dal volto si vede nel volto quindi è si vede così tanto da te ashtai wa ashtai wa sa e dunque beh domani kumachi kumachi nobutai to koryoku darò ureshisugite domani domani non dovremmo riunirci con l'armata di kumachi kumachi nobutai il reparto l'armata il reparto di to go ryu go e ryu go è il kanji di au incontrare ryu è il kanji di scorrere quindi significa che si praticamente arrivano e formano una cosa sola affluire per intenderci quindi fondamentalmente sta dicendo ah domani confluiranno tutti insieme e con noi arriverà anche l'armata di kuma e sono troppo contenta sono troppo felice e poi scendiamo e kakume gun to gun gun tai chou jini quindi armata rivoluzionaria comandante dell'armata orientale jini ina kuma e inai ina kuma gun tai chou a bene il comandante kuma eh sì no è lei che vorrebbe farsi confluire no 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 assolutamente no e pier non significa come sei felice nel senso di incinta è ureshi è lo stesso ureshi utilizzato da orso dai dai cittadini la pagina prima ureshine perché sono contenti che arriva kuma e che li cura è la stessa cosa che diceva kuma alcune pagine fa adesso li vado a a recuperare e non è qua è dietro qua 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 il ballo del qua qua parlava di felicità dove era l'ho persa qua oreshi oreshi sono contento quindi non vuol dire che lei è incinta lei è felice non è incinta qua 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 si è la solita pippa inutile basata sulla traduzione della traduzione della traduzione di traduzioni fatte male perché come sempre tradurre è tradire ma se chi tradisce è uno che non sa tradurre è un casino perché purtroppo se traduci dall'inglese dove di solito gli americani tendono a sbrodolare tanto quando fanno le traduzioni e lo vedete cioè se vedete se ormai avete imparato a capire da come vi faccio le narrazioni da come vi spiego la traduzione i giapponesi sono minimal i giapponesi quando parlano soprattutto in questi fumetti qua in one piece di sicuro sono asciutti come dice sempre angelo il buta sono stringati nei dialoghi mentre invece voi guardate la traduzione inglese è una traduzione dove vi vengono fatti dei pipponi che non finiscono più delle robe che sono esagerate con dei discorsi arzigogolati con delle frasi pesanti no come vedete il giapponese è serafico stringato non c'è bisogno di fare dei gironi di parole basta essere anche noi traduttori asciutti quindi dice fortunato buono il comandante il comandante d'armata kuma minnaga akogareni aisarete tutti quanti e cioè ti amiamo così tanto che tutti ti desideriamo sei così amata che tutti quanti desiderano te aspirano a te ma non aspirare cioè ti vogliono qui è più un volere nel senso amare oda solitamente non fa giochini sessuali o meglio li fa con sua moglie e non fa allusioni sessuali su one piece e qua in pratica le sta dicendo sì sei amata da tutti e ma ti desiderano tutti fortunato kuma perché tu lo desideri e lui desidera te sei sculata quindi io sarei desiderata sarei quella qui kimo quel kimo che è qua dopo il punto di domanda punto esclamativo punto di domanda kimo è tranciato è quasi onomatopeico perché per i giapponesi kimo è il senso di è una contrazione di kimo chihuarui kimo chigawa kimo e proprio dà l'impressione proprio di essere lì con un conato di vomito kimo 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 siete solo dei poppanti siete solo dei mucciosi mi fate venire il vomito mucciosi il in kimo kimo gli dicevano i cittadini che sboccata che maleducata cioè ci hai appena dato dei poppanti maledetti dei poppanti disgustosi E noi siamo qua che ti diciamo che sei la nostra dea Sei veramente di dubbio gusto Sono le traduzioni ufficiali Non c'è mai una traduzione ufficiale Neanche la mia è una traduzione ufficiale Arriviamo alla fine Allora, io la chiamo Baltigo Che è come viene chiamata nella traduzione Star Comics Ma secondo me, perché richiama forse Baltico Ma mi sembra un terreno desertico E a me piaceva tanto la traslitterazione Vertigo E vertigo, vertiginis, cioè vertigine E più che Baltigo Perché più o meno verrebbe scritto uguale Se non forse il trattino per allungare Quindi probabilmente vertigo Se lo vogliono dire vertigo Probabilmente sarebbe stato Batigo Invece qua è Barutigo Quindi probabilmente Baltigo Dragon San, Dragon San Quindi lo chiamano Dragon San, Dragon San Gini è stata rapita Un nemico a cui non pensavamo Un nemico impensato E quindi è un nemico impensabile Cioè è arrivato un nemico impensabile È stato Ci spiace È stato un nemico impensabile L'ha rapito un nemico impensabile Allora Un paio di cose Poi vi Vi lascio andare Anche perché alle tre e mezza C'è la live del re La Q&A Sul 1097 Allora Secondo me Sakazuki Guardate Io Cioè Può essere veramente la qualunque Perché può essere veramente la qualunque Può essere Aokiji Perché ci sono E Se voi guardate sotto Inaspettato Impensabile Sì È una persona a cui Non avevano pensato E Rapito Esatto Padre di Califa In onore di Dario Ci può stare Per me ragazzi Potrebbe essere Sì Come dici tu Rioma Se fosse stato un Marine Non È È banale infantile Come dice il buon Pierre Io sono convinto Di una cosa Secondo me Chi l'ha rapita È Eh Kuma stesso Secondo me Noi non Cioè Primaveramente non lo sappiamo Ma è già stato Negli otto anni Catturato E Siamo in un momento Dove lui Deve Dimostrare la sua fedeltà Al governo Può starci come non starci Al momento Può essere Chiunque Assolutamente Chiunque Per quanto Quindi Ma quelli non sono i piedi Di Kuma Scusami Perdonami Come fai a dire Che non sono i piedi Di Kuma Fai lo scarpolino Ricordiamoci Che Oda Praticamente Fa quel cazzo Che gli pare Fa le silhouette E dice Guardate ragazzi Questi Sono quelli Della flotta Dei sette Sette spadaccini Con Le sciabolette Con le Le spade Da 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 spada medievale Italiana E E poi Spada medievale Italiana E poi salta fuori Che c'è Orso Bartolo C'è Orso Bartolo Mio che è gigantesco C'è C'è Gimbe C'è il cipollone Moria C'è una donna C'è Può essere La qualunque Il cipi Può anche essere Il cipi Può essere Secondo me Sicuramente Una figura Che abbiamo già visto Sicuro Può essere Doflamingo Può essere La qualunque Per me Può essere Veramente La qualunque Però è chiaro Che se fosse un marine Non sarebbe stata rapita Sarebbe stata catturata Non ci sarebbe Qua Sarawaretà Cioè È stata rapita Ma sarebbe stato Giniga Scamaretà Cioè Ginni È stata catturata È stata arrestata Non è stata Catturata È stata rapita Quindi Sarebbe stata una frase Diversa Quindi non può essere La marina Può essere Un corsaro Può essere Ivankov Può essere Crocodile Può essere Chiunque Può essere Veramente chiunque Vero Mister Tu Gin Può essere Stussi Può essere anche lei Probabilmente sono scarpe da uomo Però non capiamo Se sono scarpe Con i tacchi o meno Perché il punto Dove dovrebbe esserci un tacco C'è Il Un po' di venticello Che può essere Anche La condensa E La sublimazione Del Non la condensa La sublimazione Del Da freddo Di Aokiji Può essere Tutto Però se fosse un marine Sarebbe È stato catturato È stata catturata Non è stata rapita Quindi può essere Veramente di tutto E sicuramente Qualcuno che conosciamo Ma garantito Al limone Che è uno che conosciamo Non mi aspetto Niente di diverso Assolutamente Niente di diverso Ah Rivoluzionari Refuso Quindi Salvo E Chiudo Quindi Torniamo Qua Lo mostra subito Lo scopriremo Mercoledì Già secondo me Stasera Lo scopriremo Ma fatemi dare un'occhiata No Non c'è ancora Nessun Spoiler O cose particolari Quindi Lo scopriremo Solo vivendo Come diceva quello Quindi Io Vi saluto Visto Visto che Abbiamo fatto La nostra Loretta e mezzo Se vi siete persi Questo video Lo dico a voi Che Questa live Lo dico a voi Che ci siete qua Adesso Se siete sub La potete Recuperare Qua su questo canale Essendo sub In VOD Altrimenti Da venerdì Alle ore 13 Perché così O alle ore 12 e 50 Quello che sarà Lo faccio partire In modo tale Che quando Finisce Potete andare Di là Dal re A guardare Il capitolo nuovo Quindi Vi fate un ripassino Sul capitolo Vecchio Per poi arrivare La live del re Col capitolo nuovo Così Detto questo E Quanto durerà ancora Il flashback Imperatore Baghi Guarda Secondo me Uno Due capitoli Massi Cioè Il prossimo Lo deve fare tutto Secondo me Dipende Quanto Sarà stringato E Sarà stringata Questa parte Perché di cose Ancora da raccontare Ce ne sono Perché ci deve raccontare Come È stato Catturato Ci deve raccontare Come è entrato Nella flotta Come è stato salvato Da Vegapunk Quindi L'incontro E il suo ritorno Al Al mondo Di tutti i giorni Quindi al ritorno Nella rivoluzione Quindi E scoprire Se Essendo Essendo Lui Un Diventato Un cyborg Se Nel tornare Nella rivoluzione È lì Come Non dico Marionetta Ma come Spia Del governo Perché È un Cyborg E quindi Magari Vedono Quello che Vede lui Da distanza Ma lo scopriremo Solo vivendo Per il resto Io Vi saluto Ci vedremo A breve Registrerò il video Su Loki Perché lo dovevo Registrare Questo weekend Ma ovviamente Non ci sono riuscito Come volevo farlo io Con i ragazzi Di storie di fumetto E cinema E Quindi Nel pomeriggio Uscirà il video Sull'episodio 5 Di Loki E stasera Sarò con Gabri Dalbuta Per il One Piece Deep Visto che Non ho avuto Modo di Parlare Di questo Capitolo E analizzarlo In compagnia Ieri sera Mi sono Imbucato Dentro All'One Piece Deep E perché Proprio è Deep E quindi Mi sono Imbucato Detto questo Ragazzi Io vi saluto E ci vediamo In live Stasera Dalbuta E Domani Sempre qua Sia su Segnale di fumetto Che su Twitch Perché facciamo Il quinto quarto Un quinto quarto Tutto Da ammazzarsi Da ridere Quindi Ciao belli Ciao